Buonasera amici di Avzi in Italia. Oggi anche noi nel nostro piccolo vogliamo partecipare alle commemorazioni di Dante, quindi al Dante di. Come avrete sentito dire sicuramente in questi giorni, oggi 25 marzo è dedicato al ricordo di Dante Alighieri, padre della lingua italiana potremmo dire. Quindi anche noi nel nostro piccolo e in maniera assolutamente non degna rispetto ai grandi che parleranno, che hanno parlato sicuramente in questi giorni, cercherò di dare anche io la mia piccola versione, il mio piccolo contributo al ricordo di questo grande genio. Prima di partire con dei consigli di libri che vi voglio dare, facciamo un piccolo ripassino di chi è Dante Alighieri, per chi come me ha finito la scuola già da qualche annetto e quindi magari si è dimenticato qualche pezzettino quella per la strada. Allora Dante Alighieri, durante degli Alighieri, non si sa bene quando sia nato. È nato a Firenze, sappiamo che è nato a Firenze, possiamo immaginare la data di nascita proprio grazie all'opera che lo ha reso grande per sempre nel mondo, cioè la Divina Commedia. Perché? Perché sappiamo in che anno è stata scritta, cioè nel 1300 e sappiamo che lui comincia con una frase celebre nel mezzo del cammin di nostra vita. Nel mezzo del cammin di nostra vita è interpretato come lui che è un uomo ormai arrivato alla mezza età, però la mezza età non per noi del 2021 che è poco più di 50 anni, ma per loro del 300. Quindi Dante Alighieri aveva la mia età 35 anni e io la Divina Commedia non l'ho scritta tranquilli ve la risparmio, la mia versione della Divina Commedia. Non mi sento una donna di mezza età, all'epoca però invece eri già un bel po' grandicello. Quindi più o meno possiamo fare 1300 meno 35 più o meno e ricaviamo la data di nascita di Dante. Dante è stato un grande poeta ma già in vita gli era riconosciuta la sua arte, ma è stato anche un politico ed è questa parte che gli ha reso oneri ma anche onori nella città di Firenze. Fortunatamente anche qualche onore. Lui è stato anche uno dei sette priori della città di Firenze, ma nonostante fosse un guelfo, nonostante lui fosse appunto del, chiamiamolo, partito del Papa, ciò nonostante lui fu un feroce oppositore del Papa che era all'epoca e proprio per questo quando il governo di Firenze cambiò completamente lui e tanti altri come lui vennero esiliati. È così che è iniziato un pellegrinaggio per tutta l'Italia da parte di Dante alla ricerca di qualcosa che in realtà le altre città italiane non potevano dargli, perché un po' tutte le corti lo chiamavano e se lo contendevano perché comunque dava lustro alla propria corte. Ma nessuna città, per quanto dignitosa fosse, poteva dare a Dante lo stesso fervore culturale che trovava a Firenze. E' così che quindi comunque lui più di un tanto non si fermava nelle singole città. Verso la fine della sua vita, negli ultimi anni della sua vita, venne chiamata Ravenna. Venne chiamata Ravenna perché il signore del luogo voleva evitare una guerra, aveva bisogno di un ambasciatore, di qualcuno che fosse in grado di parlare diplomaticamente con i propri avversari. Chiamò Dante, Dante ci andò volentieri, portò avanti le sue ambasciate, riuscì a scongiurare appunto questa guerra. E lo sforzo fu tale che dopo pochi anni comunque lui morì. Ed era e fu sepolto dove si trovano tuttora a Ravenna. E il luogo della sua sepoltura ha fatto litigare per molto tempo la città di Ravenna con la città di Firenze. In realtà ogni tanto litigano ancora adesso. Perché? Perché la città di Firenze ha sempre preteso, una volta che passato un po' di tempo ha ridato tutti gli onori a Dante, ha deciso, la città ha pensato bene che fosse più giusto che lui si trovi lì, in quanto è la sua patria. Una patria che lo ha cacciato, una patria che in vita gli ha offerto di tornare ma a caro prezzo, chiedendogli prima di umiliarsi per poi rientrare, umiliazione che Dante non ha mai accettato e che infatti è la ragione per la quale lui è morto esule. Quindi quando la città di Firenze ha riabilitato questa figura, ha cominciato a chiedere a Ravenna di restituirgli le spoglie, la città di Ravenna ha sempre mantenuto il punto rifiutandosi. Un accordo si era raggiunto proprio un paio di anni fa quando si è iniziato a pensare a come celebrare il 700 anni dalla morte di Dante proprio nel 2021 e quindi per un periodo le spoglie di Dante dovevano tornare a Firenze. Questo poi non è accaduto perché confinamento, zona gialla, zona arancione, zona rossa e tutto quello che sappiamo tutti quanti, le spoglie sono rimaste a casa loro e se ne riparlerà per un altro anniversario. Ho fatto questo piccolo riepilogo, ovviamente molto molto riassuntivo e che non vuole assolutamente sostituire un libro se volete approfondire vi consiglio di leggere il libro di Mario Tubino, Biondo era e bello, del quale però non parleremo stasera perché stasera parleremo di Arriveder le stelle di Aldo Cazzullo, Dante il poeta che inventò l'Italia. Ecco, spero si veda, perfetto. Il libro è uscito da pochi mesi quindi assolutamente una novità editoriale della quale credo avrete sentito parlare perché comunque è uscito apposta quest'anno quindi sicuramente se ne è parlato in giro. È un ottimo spunto per ripassare un po' proprio i canti dell'inferno, comunque per ripassare un po' la Divina Commedia, rivedere insieme proprio quello che abbiamo studiato a scuola anche da un punto di vista politico, nel senso che Cazzullo ci descrive, ci dà delle spiegazioni, dei passaggi secondo lui fondamentali della Divina Commedia, ci ricontestualizza però, ci ricontestualizza da un punto di vista storico, parlandoci proprio di quello che stava accadendo in quel periodo politicamente e storicamente e soprattutto scopriamo mano mano che leggiamo che tanti autori del presente, poeti, musicisti, più moderni, ungaretti, Pavlo Neruda, ma anche cantanti come Lucio Dalla, si sono ispirati alla Divina Commedia, riprendendo temi, riprendendo dei versi, si sono proprio ispirati, noi neanche ce ne rendiamo conto e ci ritroviamo magari a cantare o a leggere qualche cosa che in realtà è ispirato a un poema che è stato scritto 700 anni fa. E questo secondo me, già solo questo, ci fa rimanere a bocca aperta perché in realtà capiamo come i temi affrontati, il modo in cui vengono affrontati, sono ancora moderni, sono ancora attuali e poi soprattutto nei primi capitoli ci fa notare Aldo Cazzullo come molti termini che noi usiamo oggigiorno sono in realtà arrivano proprio dalla Divina Commedia, ce li ha insegnati Dante, ecco perché è lui che è il padre dell'italiano, è il padre dell'Italia perché è il primo nella Divina Commedia che parla dell'Italia così come la intendiamo noi oggi, cioè come una nazione unica, stabilisce quali sono i confini anche se non sono proprio quelli che abbiamo adesso perché gli si allarga un pochino lui, tanto che Dante è stato per tanti anni il simbolo delle terre, dei territori che non appartenevano all'Italia ma che appartenevano ancora all'Austria come Trento o tutta la parte più a est che troviamo subito dopo il Friuli Venezia Giulia. Quindi Dante è sempre stato considerato appunto il padre dell'Italia e ragione per la quale molti combattenti per l'Italia si sono sempre rifatti a lui, motivo per la quale a Trento abbiamo una statua dedicata a Dante, abbiamo una statua dedicata a Dante e una poesia forse non fra le più belle di Carducci proprio sul monumento di Dante a Trento, cercatelo su internet non è forse una delle più belle però è significativa. Tutte queste piccole cose che a scuola non si affrontano le si possono scoprire in questo saggio molto scorrevole e veloce da leggere, soprattutto quello che a me è piaciuto tantissimo di questo libro è che mi immaginavo l'autore con gli occhi che brillavano mentre scriveva di qualche cosa che evidentemente gli piace davvero tanto perché traspare dai capitoli tutta la passione, tutto l'amore, tutta la meraviglia che ha Aldo Cazzullo nei confronti della Divina Commedia e di Dante e già solo per questo sarebbe da leggere, poi si imparano anche in realtà molte molte cose. Io adesso però vi voglio consigliare anche un'edizione particolare della Divina Commedia, io spero si riesca a leggere, in realtà qualsiasi edizione va bene, quelle scolastiche, quelle scolastiche, questa vi volevo far vedere solo perché presenta alcune illustrazioni che secondo me sono molto molto belle, ma se cercate online di illustrazioni belle della Divina Commedia se ne trovano tante e nei secoli tanti pittori, tanti artisti famosi, degni di nota ci hanno regalato delle opere favolose ispirate ai tre canti che vale veramente la pena questa sera se non avete nient'altro da fare, non avete voglia di ascoltare discorsi troppo impegnativi, spiegazioni, leggere, vi mettete lì a cercare su Google e troverete tantissime illustrazioni dedicate a Dante, Dante che spero festeggeremo non soltanto quest'anno che sono i 700 anni dalla scomparsa, ma che ogni anno comunque le scuole, le istituzioni in generale si ricordino di dedicare almeno un'ora della giornata perché se noi adesso parliamo così e ci capiamo lo dobbiamo proprio a lui, a Dante che è stato se non il primo, uno dei primi a scrivere le sue opere in questo volgare, che si chiamava volgare all'epoca, in modo che fossero comprensibili da tutti, dal colto, da quello non colto, da quello ricco, da quello povero, l'importante era saper leggere e questo era il linguaggio col quale parlavano tutti quanti, tutti i giorni e non era il latino, il latino che era solo per chi lo aveva studiato e la grandiosità delle sue opere sta anche in questo, nel fatto che lui le ha rese comprensibili a tutti, perché la cultura, il bello, il piacere deve essere per tutti, non solo per chi è stato più fortunato perché è nato in una famiglia che gli ha dato più possibilità, ma deve essere per tutti, un innovatore, se ci pensate per il 1300 stiamo parlando veramente di un'innovazione che non, che ancora oggi non è del tutto raggiunta questa, questa uguaglianza. Io vi auguro una buona serata e alla prossima!